Rinnovamento nella continuità. E' questo l'obiettivo del nuovo gruppo dirigente dell'ASD Polisporti Nuoro, scuola calcio elite, che nell'assemblea del 14 ottobre ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali. Salvatore Boedo è stato eletto presidente, sarà affiancato dal vicepresidente Gonario Zicchi e dal direttivo composto da Antonio Marciali, Sipier Paolo Sanna e Franco Podda. Il segretario sarà Luigi Manunta e il tesoriere Giuseppe Manca. Proseguire il lavoro fatto dai suoi predecessori, rinnovandolo e rafforzando il valore sociale dello sport e del fair play promossi fin dalla fondazione della società nel 2003. E' questo l'obiettivo del presidente Boedo. Anche per questa stagione il numero di iscritti sia nella scuola calcio che nel settore giovanile sono molto incoraggianti, ha sottolineato il presidente Boedo in una nota. L'obiettivo principale è quello di rafforzare e consolidare i rapporti di collaborazione istituzionale con la direzione del carcere di Badecaros e l'amministrazione comunale per un progetto condiviso di valorizzazione e riqualificazione del compendio dove insiste l'impianto sportivo realizzato in questi lunghi dieci anni col contributo volontario e gratuito di tanti appassionati, dirigenti, tecnici, genitori e simpatizzanti. Sotto il profilo programmatico verrà data continuità il progetto Scuola Calcio Elite riconoscimento dato alla società nella stagione sportiva appena conclusa. Proseguirà la collaborazione tecnica con la polisportiva Santupredu per la gestione unitaria del settore giovanile della prima squadra, il progetto Sportello d'Ascolto a supporto dei giocatori e delle loro famiglie, il presidio salvavita con la donazione di un defibrillatore da parte della Fondazione di Sardegna. La polisporto Nuoro, conclude la nota, intende anche promuovere una maggiore collaborazione con tutto il mondo dello sport, dalla federazione all'associazione degli arbitri a quella degli allenatori, alle scuole calcio della città e del territorio. Grazie.